Allora adesso ci appingiamo a passare lo stretto delle due sorelle, davanti a me c'abbiamo Domenico adesso mi seguirà Domenico, io vado avanti, ecco sto passando Domenico, se Domenico c'è da me c'è un po' di vento, niente di particolare, un po' di vento bassa marea, ti viene sempre dietro a me, passa fin qua che c'è un scoglio qua, bassa marea oggi abbiamo una bassa marea Marco oggi non mi sono azzardato a prendere quella trafagaia, la provo con calma, questa me la sento meglio, non lo so, sono più sicuro Domenico segua me, a destra, a destra, si, 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 fai troppo a bassa, guarda qui c'è uno scoglio, lo porti avanti te Marco lì qui guarda allora stiamo dentro le due sorelle, c'è abbastanza vento, stiamo scendo ecco ci abbiamo davanti Franco che ha preso il mare, Teresa non la vedo, Teresa è passata, questa è una sorella Liliano il tutto è sempre il benvenuto, quando vuoi, e non pensare a Grana Padano, è a Cortucci tanto Dio, lascia un sacco a Cortucci, Marco che ti venisse un bete, c'è forte qua eh onda perfetta sulla destra abbiamo Franco abbiamo Franco sulla destra che sta andando bene sta rimando benissimo con il suo kayak da competizione fa un freddo dalla madonna Franco a Domenico dopo ti spiegherò allora, siamo fermati io e Franco siamo in una piccola onda adesso vediamo un attimo dietro a Domenico è un'altra persona che non vuole essere nominata stanno arrivando ecco Domenico non devi di niente, non devi di niente alla sinistra vediamo la corazzata gialla di Domenico ci sono dei concorrenti della grande distribuzione ecco bravo bravo adesso saluto il mio capo e faccio un saluto a Cortucci Domenico Cortucci stiamo andando bella, bella giornata Domenico Domenico sta viaggiando forte non riesco ad arrivarlo al dottore qui davanti eccolo però vedi come ti è andato dritto eh piano piano eh comunque oggi Domenico ti è servito anche per vedere il mare il te ne ho detto mai quindi e ti rendi conto che quando ti dicevo del piazza a bestia come l'ho presa io era l'ideale è sicura ti senti sicuro un altro sto sto a due vento l'onda sempre minima 40 centimetri d'onda vento teso di maestrale questa è la vecchia stazione dove una volta caricavano i massi perché stazione ferroviaria dismessa siamo sotto al conero sono le rotaie poi a sinistra ci avviciniamo un po' alla sfogliera per provare il kayak la stabilità stabilità massima onda di traversa leggera increstatura attenzione che non si toglie qui sotto nella stanza una stanza e la stanza che è un'altra buona e lo confidently è un'altra che è un'altra e lo metto è un'altra Stiamo prendendo l'onda in fianco Bora Ecco, sta arrivando Domenico per la prima volta a fronte al mare abbastanza agitato Eccolo Avvicino l'istruttore, quindi siamo tranquilli Eccolo